ciao a tutti amici e bentornati di nuovo sul canale in questo video vedrai come ottenere la brillantezza della resina ti farò vedere tre modi semplici da cui puoi scegliere quello che è più adatto a te la prima tecnica utilizzata se vogliamo che la nostra resina rimanga resina al tatto e cominciare a levigarla si parte sempre da una grana grossa di tipo p80 qui potete vedere che è trasparente e poi si arriva a scalando grana per grana a p3000 o p4000 tenete a mente che con ogni carta si passa almeno due volte nello stesso punto in questo modo riusciremo a togliere i graffi della grana precedente quando si arriva a p400 si può usare anche l'acqua in questo modo possiamo ottenere la brillantezza perfetta dopo tutto questo sforzo si passa alla lucidatrice io utilizzo una lucidatrice del genere marchio galax pro ma ci sono tantissime in commercio a proposito vi lascio qualche link in descrizione se vi può essere utile io le ho selezionate in base a quelle che sono le più economiche per non andarli a spendere tanti soldi e fa il suo lavoro bene utilizzo anche dei pad così con una crema polish sempre quella della resin pro scegliete voi e vedete quale vi è più comoda e quale viene meglio la seconda tecnica ragazzi è quella in cui potete utilizzare per gli oggetti più piccoli uno spray acrilico questo qua è un spray acrilico trasparente molto brillante oppure se dovete lavorare oggetti più grossi di tipo tavoli sedie più grossi potete utilizzare anche un compressore con una pistola una pistola del genere è un compressore piccolo ma fa il suo dovere allora per usare il compressore ragazzi dovete utilizzare un bicomponente è una vernice bicomponente io adesso vi sto facendo vedere il catalizzatore questo piccolo e il trasparente antigraffio non sono assolutamente sponsorizzato da questa azienda però vi della consiglio perché io ho fatto il lavoro del tavolo ed è venuto un bel risultato quindi vi consiglio se volete utilizzarla la trovate anche su amazon è un'altra cosa molto importante per diluire il 10 per cento quei due componenti bisogna usare il diluente acrilico per carrozziere non utilizzate altri diluenti perché si crea un casino quindi mi raccomando diluente acrilico per carrozziere carrozzeria anche lì si dà una prima mano poi una volta che si asciuga si ricartiglia con la p 400 e poi si dà un'altra mano ricordatevi ragazzi di lavorare in un'area ben ventilata e di utilizzare attrezzature di sicurezza tipo maschera e infine la terza tecnica ragazzi è quella in cui si sceglie una resina adatta per fare i rivestimenti io posso farvi vedere due opzioni la art pro oppure la art pro deluxe sono resine resistente ai graffi e resine che sono auto livellanti allora questa resina si cola direttamente sulla superficie precedentemente carteggiata con la p 360 o p 400 si può spalmare sia con il guanto in lattice oppure utilizzando una paletta dentata vi ricordo che se dovete fare un tavolo piccolo o grande di mettere un po di scotch di carta intorno al bordo in questo modo la resina rimane lì sul piano 30 40 minuti in base al suo pot life così la resina diventa un po più densa e rimarrà giusto 2 3 mm se ci sono delle piccole bolle in superficie si può usare l'alcol isopropilico con uno spruzzino si passa in questo modo un po dappertutto e così svaniscono oppure anche possiamo anche utilizzare la pistola termica e una volta asciugata non dovete fare altro allora amici per spiegarvi il pot life praticamente sull'etichetta si riesce ad intravedere allora pot life 100 grammi 45 minuti a 20 gradi lavorabilità 100 grammi in 30 minuti a 20 gradi quindi amici questi 100 grammi a 20 gradi entro i 30 minuti possono essere ancora lavorati avete capito più o meno se avete delle domande scrivetemi nei commenti che vi rispondo con piacere giunti a fine di questo video ragazzi vi chiedo solamente di lasciare un like iscriviti se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo con un altro video tutorial ciao